Sei tu? Hai fatto bene a venire. Ero un po' preoccupato. Ti offro un whisky, vuoi? Sai, è stato qui un commissario di polizia. Ah, ma io non mi sono fatto incastrare. Non ho detto niente. Eh, ma quello ritornerà. Lo sai come sono fatti quando prendono uno di petto. Io ti ho aiutato, ma tu adesso mi devi tirare fuori da questa storia. In fondo poi, sia tu che io, non abbiamo proprio nulla da nascondere. Grazie. 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 Grazie.